Ecco, qui siamo nella parte nuova dell'azienda Il Monastero, dove sono arrivate le galline da poco, quelle uvaiole, per cui per un certo periodo dovranno abituarsi a stare all'interno, ma essendo un ciclo biologico, a breve potranno uscire e dovranno abituarsi a fare le uova soltanto all'interno, dove poi tramite questo nastro ci sarà la possibilità di recuperare le uova fatte all'interno. Ma come vedremo, lo spazio che avranno a disposizione all'esterno è quello ovviamente richiesto dal settore del biologico ed è un bello spazio dove potremo a breve vedere scorrazzare le nostre galline che già fanno delle ottime uova, in quanto c'è attivo un altro piccolo recinto che per ora permette di avere una buona resa di uova. E lei è Michela Grazie 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 Grazie